Nel corso della settimana un nuovo cambiamento del tempo interesserà l'Italia. Questo avverrà a partire da venerdì quando una nuova circolazione depressionaria alimentata da aria più fresca in discesa dal nord atlantico si porterà da nord verso il Mediterraneo. Le nostre regioni settentrionali nel corso di venerdì, lo vediamo nella grafica successiva, cominceranno ad essere interessate dal passaggio di questo fronte atlantico con nevicate sulle Alpi al di sopra dei mille metri, perturbazione che poi entro sabato si estenderà anche a gran parte del centro sud. Tra il mattino e il pomeriggio di sabato saranno soprattutto le regioni settentrionali e quelle del versante tirrenico a essere interessate da piogge sparse anche temporalesche tra Toscana, Lazio e Campania e poi sabato sera il fronte si porterà verso il sud con veloci acquazzoni ma già domenica la tendenza dovrebbe essere al miglioramento. Per maggiori dettagli e ulteriori conferme vi rimando comunque ai prossimi aggiornamenti anche sulla nostra app per smartphone e tablet.